Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Vision 11. V-Box Vision 11 4, 0GHZ AMD Quad-Core, per la casa Gaming Gamer, Desktop Computer con Windows 8.1. 4, 0GHZ AMD Athlon 750K Quad-Core Processore. 8 GB of DDR31333MHz RAM. 500 GB hard disk. AMD Radeon HD6450. 2 GB scheda grafica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.